Anche quest'anno torna Artigianato Vivo dal 4 al 15 agosto, 12 giorni nel paese di Cison, Cison che si cresce tutti gli anni, si evolve tutti gli anni, questa è una manifestazione che stiamo cercando di portare avanti, ormai è la 43esima edizione, stiamo cercando di migliorare tutti gli anni, di farla crescere, di rinnovarla, di dare quel senso di novità. Infatti tutti gli anni noi cerchiamo anche una nuova copertina per il nostro volantino per dare il senso di qualcosa che cambia, qualcosa che ha una continua evoluzione. È bello anche ricordare che è una manifestazione che è fatta da artigiani e da volontari, i volontari sono il motore fondamentale di questa manifestazione perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Penso sia un caso più unico che è raro in Italia, trovare una manifestazione che porta centinaia di migliaia di persone in un piccolo paese e fatta tutta da volontari che dedicano il proprio tempo libero alla creazione di questo.